Amici spettatori di LucaniaTV.it, un cordiale saluto da Pino Carlo Magno, è Natale anche qui nella sede di Lauria Attiva ed è la dimostrazione che è Natale anche qui dal bellissimo presepe che tra poco Gianvrango Di Bella vi inguarderà realizzato da alcuni amici che sono qui con noi oggi per raccontarvi un po' com'è nata questa idea un presepe mobile perché molte delle statuine che vedrete e che state forse già vedendo proprio sembrano essere animate e mi dicono coloro che ricordano più di me le cose che non si vedeva un presepe così con pastori e altri oggetti e cose varie in mobilità, chiamiamola così, dai tempi dei monaci, i famosi monaci che stavano e stanno tuttora qui a Lauria. Artefice credo dell'iniziativa del presepe nella sede di Lauria Attiva è Pierluigi Scaldaferri, un po' il coordinatore di questa associazione. Pierluigi, a te. Ma io fammi innanzitutto ringraziare Andrea Parisi, Antonio Rossino e Antonio Balena perché noi siamo sempre pronti a enfatizzare i difetti che pure ci sono dei laureoti e ci dimentichiamo invece che siamo un popolo pieno di virtù in questo caso la virtù è la generosità e il talento e chi verrà a vedere il presepe lo capirà quindi grazie al loro contributo perché questa è un'opera interamente fatta a mano che molti hanno già ammirato e che continueranno ad ammirare durante le feste quindi il mio grazie va in particolare a loro tre ma è un grazie a tutti i laureoti che hanno generosità e talento perché ce n'è bisogno Senti Pierluigi, c'è già stata gente perché voi l'avete inaugurato, aperto questo presepe da diversi giorni c'è una buona affluenza, una scarsa affluenza fino a questo momento? Abbiamo aperto un solo giorno, abbiamo fatto una sorta di inaugurazione e c'è stata tanta gente, ci hanno anche lasciato molti commenti, molti auguri apriremo domenica e poi dal 20 credo saremo aperti almeno fino a Natale tutte le sere e anche dopo quindi per chiunque voglia venire a visitare il presepe può seguire sulla pagina Facebook di Laureattiva le date e gli orari di apertura al pubblico siamo convinti, un po' con il passaparola, un po' grazie anche al vostro contributo e alla pubblicità che ognuno di noi sta facendo siamo convinti che molta gente verrà a vederlo perché ne vale davvero la pena Andrea Parisi è uno degli autori insieme all'Antonio Rossini e Antonio Balena di questo presepe Andrea come ti è venuta l'idea e se ce lo spieghi brevemente questo presepe? l'idea come tu hai anticipato è venuta proprio negli anni 70 che c'era questo presepe fatto dai monaci cappuccini, chi della nostra generazione se lo ricorda era molto affascinante un presepe in movimento nell'epoca in cui la robotica, l'elettronica praticamente non esisteva questa cosa quindi mi ha dato poi lo spunto per creare questo presepe insieme ai miei colleghi oltre naturalmente l'aspetto religioso primario, natalizio io ho voluto dare anche uno spunto di creatività per i ragazzi, per i giovani che magari vengono a vederlo e magari avranno la stessa mia scintilla che ho avuto in quel momento per creare qualcosa di nuovo, di artistico senti Andrea, qui se andiamo a bagliare cani e così anche altri rumori strani che non so se si percepiscono e si ascoltano in televisione, sei l'autore anche tu di questi versi? sì perché poi la passione per l'elettronica ce l'ho da diverso tempo quindi poi non è stato neanche un lavoro tanto lungo insomma nei ritagli di tempo più o meno in un anno sono stati creati questi pastori e poi l'allestimento che abbiamo fatto è stato negli ultimi 20 giorni quindi abbiamo avuto poco tempo poi per mettere in moto tutto visto che ha avuto questo successo magari ci miglioreremo per l'anno prossimo se c'è l'opportunità di farne un altro e magari con i tempi giusti riusciremo a creare anche qualcosa di più sofisticato, più bello il presepe è un presepe classico, non può mancare il ruscello non so se Gianfranco lo sta inquadrando c'è Antonio, Antonio vieni qua così ci spieghi questo ruscello che scorre qui nel presepe sì in effetti da quest'idea di Andrea come diceva prima di aver realizzato tutto i pastori in movimento proposi ad Andrea di realizzare anche un ruscello con acqua naturale quindi avendolo già collaudato precedentemente in altri presepi però fatti a casa propose da Andrea di voler realizzarlo anche qui lui giustamente mi disse sì era il caso di farlo e poi in effetti si basa su un motore elettrico di una lavatrice praticamente che crea un ricircolo di acqua quindi è stata creata una fonte di acqua alla base dove questo motore preleva e dà l'uscita e quindi ricrea questo ricircolo torna l'acqua e la riprende quindi fa una bella cosa poi in un contesto così diciamo fa il suo effetto Antonio vediamo anche lì la cometa questa è stata un'altra iniziativa sempre di Andrea che praticamente volevamo realizzare questo cielo stellato con una luna effetto tipo 3D e non poteva mancare la stella cometa che faceva la sua apparizione abbiamo cercato di fargli fare in effetti un percorso strategico per poi ritornare alla base e ricominciare c'è voluto del tempo un po' di tempo sì questo è quello che diceva Andrea in effetti quei 15-20 giorni per metterlo in opera e cercare di concretizzarlo nel modo migliore bene Antonio Balena l'altro autore è la prima volta Antonio che tu ti cimenti in presepi pubblici che poi sono esposti alla vista della gente sì è vero questa è la prima volta che mi presento al pubblico di Lauria insieme ai miei colleghi Andrea Parisi e Antonio Rosini che sono non solo colleghi ma anche amici mi hanno coinvolto in questa bellissima esperienza molto motivati tutte e tre abbiamo cercato di dare il meglio di noi stessi speriamo che l'anno prossimo vada meglio e con questo voglio augurare buone feste a tutti e speriamo che la domenica come diceva l'amico Pierluigi Scaldaferri ci sia una buona gente che venga qui a vedere il presepe una domanda curiosa ma voi a casa fate il tuo presepe? io lo faccio tutti gli anni Pino come questo no? più semplice lo faccio forse ancora meglio e sta raccontando la laureativa Antonio tu? sì sì a casa da anni che faccio il presepe quindi non poteva mancare anche quest'anno molto elaborato o normalissimo? qualcosina di diciamo di elettronico c'è anche lì però minime cose non così anche per un motivo di spazio quindi ho cercato di fare una cosa molto più ristretta io sono stato assorbito da questo presepe quest'anno non ho fatto niente però ho visto il presepe di Antonio che è molto bello comunque fatto in una botte particolare ci vedremo il prossimo anno con i nostri tre amici e con Pierluigi Scaldaferri sicuramente faremo ancora di meglio speriamo di fare di meglio ce l'auguriamo tutti quanti Pierluigi auguri a tutti e buon Natale e buone feste grazie a voi come vogliamo concludere Pierluigi un messaggio di pace da colui che su Facebook è sempre così non per carità in maniera molto elegante e molto educata ma insomma non glieli mandi a dire io dico sempre che il problema di Lauria non sono le polemiche anzi il problema di Lauria certe volte è il silenzio, il conformismo, la mancanza di partecipazione quindi ben venga lo scontro, ben vengano le polemiche quando ci fanno crescere, quando sono motore di crescita anche per Natale non sono mancate ed è giusto che sia così io ho scritto e detto quello che penso poi secondo me il salto di qualità che dobbiamo fare è evitare che poi queste polemiche, queste opinioni diverse questi punti di vista diversi travolgano tutto, anche i rapporti personali Lauria viene prima di tutto quindi scontriamoci meglio se abbiamo opinioni diverse però poi Lauria e il fare comunità devono venire prima di tutto per cui al di là delle polemiche e oltre alle polemiche abbiamo i mercatini a Lauria Superiore abbiamo a pochi metri dalla sede di Lauria Attiva la pista di ghiaccio abbiamo il presepe di Lauria Attiva so che la Proloco sta organizzando almeno due o tre serate molto carine ci sono adesso non mi ricordo tutti i nomi ma Maria Pia Papaleo piuttosto che Romualdo Luglio sempre attivi anche loro in questo periodo cioè abbiamo tante cose viviamole insieme partecipiamo ed è anche questo un modo per dire grazie a tutti coloro che si impegnano gratuitamente quindi partecipare e mettere per un po' da parte le polemiche è anche un modo per dire grazie a chi si spende per Lauria Lauria prima di tutto con questo auguro ovviamente buon Natale buone feste a tutti i laureoti e spero di vederne tanti nella sede di Lauria Attiva per ammirare il presepe diciamo gli orari diamo gli orari da domenica 17 dicembre possiamo venire qui dalle parti di Piazza del Popolo dove la sede di Lauria Attiva dalle alle allora domenica saremo aperti dalle 18 alle 21 poi per gli orari relative ai giorni successivi basta per quei pochi che non hanno ancora cliccato mi piace sulla pagina di Lauria Attiva seguirci perché daremo gli orari più o meno giorno per giorno ma dal 20 in poi saremo in pratica aperti tutte le sere sfruttando anche la pista e facendo in modo che questo clima natalizio possa coinvolgere più persone possibili bene grazie grazie a tutti voi Antonio vuole aggiungere qualcosa volevamo solo ringraziare tutti e tre la Lauria Attiva per averci dato modo di poterlo realizzare per farlo notare quindi per averci ospitato in questa sede grazie di cuore anche a voi per aver dato il vostro contributo nel mettere a disposizione questa sala bene bene grazie allora amici dovete solo scendere venire a vedere questo bellissimo presepe che è molto meglio vedendo dal vivo che è in televisione e auguri a tutti voi da Pierluigi da Antonio da Andrea dall'altro Antonio da tutta Lauria Attiva vi aspettiamo qui già da domenica prossima 17 dicembre grazie e un arrivederci alla prossima occasione